Un saluto da dottor Palmas. Un saluto da Cristina. Chi paga volo e alloggio in caso di problemi? Nel caso di problemi non vengono mai rimborsati il volo e alloggio, soltanto nel caso in cui durante la prima visita del paziente viene scoperto che la colpa è stata del medico e dei lavori eseguiti male. In quel caso paghiamo l'alloggio e il paziente alloggia da noi i giorni necessari per il rifacimento delle cure senza pagarci. Negli altri casi se il paziente si mangia il parmigiano e strappa le bottiglie con i denti, ovviamente noi non rimborsiamo niente. Sta quindi alla discrezionalità del policlinico capire cosa è successo, se si capisce che è un cedimento del materiale oppure una vite che si è allentata perché noi non l'abbiamo stretta al torque adeguato. Sono tanti i motivi per cui si possono avere dei cedimenti o dei problemi. Posso assicurarti che per nostra esperienza il 95% delle volte è sempre negligenza del paziente, per questo abbiamo realizzato questa area informativa di aftercare. Noi puntiamo molto sull'aftercare perché ci rendiamo conto che il paziente che ha gli impianti dentali in bocca, come il 99% dei pazienti che si curano da noi, gli manca la sensibilità alla masticazione. Gli impianti non sono innervati, quindi il paziente se non adotta un nuovo regime alimentare e quindi si limita visivamente con gli occhi con quello che deve mangiare, allora è alta la probabilità che si possano avere delle rotture a causa di aver oltrepassato i limiti di flessione dei materiali di sopportazione. Noi facciamo bocche bioniche e un po' io faccio l'esempio sempre come aver perso le gambe, ti montano le gambe artificiali, bioniche, salti da due metri e poi te la prendi col chirurgo che ti ha impiantato le gambe bioniche e dici ma si sono rotte le gambe. Certo, si sono rotte perché comunque sono materiali artificiali che non sono perfetti, anzi sono materiali imperfetti. Come tutti i materiali artificiali hanno dei limiti di flessione, dei punti di sopportazione che se sorpassati portano alla rottura. Noi ci rendiamo conto che il paziente ha bisogno di soluzioni. Se è un problema piccolo che si può soprassedere finché i biglietti aerei costano meno, il consiglio è sempre quello di aspettare finché non si arriva al mese in cui i biglietti costano meno, si compra il biglietto aereo e si va all'estero, si torna qua da noi per risolvere il problema. Nel caso il paziente ha avuto un problema, per esempio una rottura che necessita l'intervento immediato, allora in quel caso per abbattere i costi di volo per esempio si può cambiare città, per esempio si può vedere un volo per Yashi. Yashi è una città rumena che sta a circa 3 ore di volo, 3 ore di macchina e di automobile da Kishinau, quindi se siamo in un periodo in cui i biglietti costano uno sproposito 300 Euro, io ho notato che da Yashi in genere c'è un risparmio del 70% sui voli, anche 50-70%, dipende. Poi da lì magari si trova un'automobile, un autista che con 20 Euro ti porta dall'aeroporto di Yashi qua al Policlinico. Per invece altri problemi per cui non è necessario venire qua al Policlinico, ci sono dei centri di assistenza che stiamo attivando, ci stiamo convenzionando con degli studi dentistici già esistenti, Roma, Milano e anche altre città prossimamente, dove noi chiediamo di applicare un listino base prezzi calmierato, dove il paziente va lì e risolve, non perde giorni di lavoro o di ferie, paga direttamente il professionista quella che è la risoluzione del problema, loro adottano i nostri stessi protocolli, in più quando sono nuovi centri facciamo anche dei giorni qua in Moldavia dove gli facciamo vedere i nostri protocolli di modo che ti possano risolvere nella tua città il problema, comunque prendendo un treno si raggiunge facilmente Torino oppure Milano o Roma. Io vi faccio un saluto per ora, ricorda se negligenza del Policlinico, il Policlinico comunque non rimborsa al volo aereo, viene incontro fino a un massimo per negligenza del Policlinico di 240 euro andate e ritorno. mentre offre l'alloggio gratuito se appunto, ripeto, è una negligenza del Policlinico. Qualora invece siano problemi dovuti a negligenza del paziente, il Policlinico non offre alcun rimborso volo alloggio qua in Moldavia. Un saluto, nel prossimo video vedremo se si possono risolvere i problemi in Italia e come. Un saluto da Dottor Palmas. Un saluto da Cristina. Un saluto da Cristina.